Buonasera a tutti, è stata una giornata intensa qui in provincia di Monza e Brianza per questo Brianza Restart. Brianza Restart, l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato più volte, è stato un momento non di vera e propria ripartenza, perché la Brianza, l'abbiamo sottolineato, si è solo fermata ad un semaforo rosso a causa dell'emergenza Covid, ma è la ripartenza dopo lo start e stop del motore, quindi col semaforo verde. Oggi c'è stato un semaforo verde, sottolineato dal logo che vedete anche in questa pagina, Brianza Restart, però un ricordo lo dobbiamo fare a quel 23 di febbraio, il primo caso Covid d'Imbrianza, da quel momento abbiamo vissuto sicuramente un periodo di assoluta incertezza nel quale però non abbiamo mai mollato, la terra di Brianza non ha mai mollato, ha cercato di fare rete, ha cercato di scambiarsi informazioni, ha cercato di non perdere, non perdere la strada come ha sempre fatto nei momenti di grande difficoltà. Qui è venuto fuori il cuore, ma sono venuti fuori i valori, i valori di questa terra, di questa gente, che oggi qui in provincia di Monza e Brianza sono stati più volte sottolineati. Ed è giusto dire che la provincia ha avuto, per me che sono un po' diventato mio malgrado il rappresentante della parte brutta del Covid, è giusto dire che la provincia ha avuto un'idea nobile, nobile perché è stata capace di mettere insieme, di mettere intorno al tavolo tutti gli attori del territorio, gli attori imprenditoriali di questo territorio per dare un segnale. Ed era importante oggi dare un segnale, un segnale capace di guardare oltre, di guardare oltre la siepe, perché noi sappiamo che l'autunno non sarà facile. Io ho qui di fianco a me, e lo ringrazio, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Sant'Ambrogio. Luca, tu hai detto una cosa che mi piace sottolineare, la risottolineo ancora una volta. Nella fatica e nelle difficoltà troviamo i nostri valori. Oggi questi valori sono venuti fuori, sono venuti fuori forti, sono venuti fuori in maniera risoluta anche rispetto a quello che si dovrà fare. È chiaro che questo è un primo passo, lo sappiamo, ci sono state tante parole, non ce lo neghiamo, però sappiamo anche che il Brianzolo ha la capacità di passare dalle parole ai fatti. Sì, dici benissimo, passare dalle parole ai fatti. Quello che dobbiamo fare noi adesso, oggi abbiamo scritto e sottoscritto un patto, ora dobbiamo trasformare questi intenti, questi programmi in azioni e realizzarle. Ci sono già cose concrete, abbiamo sentito l'eccezionale intervento della relatrice del Politecnico di Milano con questo progetto lanciato sull'omnicomplensivo dei mercati, che è una cosa concreta che sta partendo, che darà una visione futura e nuova della scuola, prendendo appunto come spunto un istituto che è particolare per noi, visto che raccoglie 4.000 studenti, ma anche tante altre cose, anche gli ultimi interventi, penso all'intervento del WWF, quindi questo impegno anche che ci siamo presi verso una ripartenza più green e che guarda più anche all'ambiente, almeno al consumo di suono. Quindi tante cose messe dentro questo documento, adesso tiriamoci sulle maniche e partiamo. Noi l'abbiamo detto prima in un nostro altro passaggio, il brianzolo deve far andare le mani, deve far andare le mani, quindi il motto, il tag, come si dice oggi, è laura, laura, laura. Ma la prospettiva del lavoro, Luca, qual è? La prospettiva del lavoro è preoccupante, preoccupante e poi Correra sicuramente l'ha spiegato bene oggi. C'è un grosso scoglio che è nei mesi di settembre-ottobre, che se si passerà in columi, vorrà dire che ce l'abbiamo fatta, ma se a livello governativo non verranno prorogate determinate iniziative, determinati modelli di governance, allora la crisi veramente piomberà forte. Quello che mettiamo in campo cerca di attuire, attutire quello che è l'impatto, certo che è che la bacchetta non ce l'ha nessuno, la bacchetta magica e ripeto, Correra ha dato dei dati che sono duri e crudi, i sindacati dicono che addirittura può essere peggio rispetto a quanto preventivato sia dal mercato del lavoro, sia dai datoriali. Quindi all'orizzonte ci sono delle nuvole in arrivo, speriamo che il temporale si fermi e non faccia danno. Noi cerchiamo di guardare sempre al verde positivo di questa giornata, questo semaforo che si è acceso, intanto ti ringrazio, sei riacceso questo semaforo, noi speriamo veramente che rimanga acceso su questo verde. Tanto è stato fatto, tanto è stato fatto in queste settimane, in queste lunghe settimane di lockdown, in queste lunghe settimane di paura, di angoscia, però siamo qui, siamo qui a guardare in prospettiva perché Brianza Ristarte è una visione, è una prospettiva, lo dicevo prima, sono state fatte tante relazioni, tante parole, noi trasmetteremo gran parte di questi stralci. Siamo qui per sottolineare, lo faccio con il vicepresidente della provincia Riccardo Borgonovo, il fatto che questa è una terra resiliente che ha sempre reagito, che non si è mai fermata, che non si vuole fermare neanche in questa occasione. tu sei stato sindaco, sei vicepresidente della provincia e sei uno sul pezzo, sul territorio e questo territorio non è fermo. Assolutamente, non è mai stato fermo e oggi l'ha dimostrato con gli interventi che ci sono stati e questo lo si può ancora ascoltare con le dirette che hai fatto, che stamattina durante gli interventi, da subito, quindi da febbraio, dal giorno dopo stesso, nel primo caso la provincia si è attivata, i sindaci si sono attivati, tutto il territorio si è attivato, tanto è vero che noi abbiamo poi interpreso nel mese di aprile i tavoli di concertazione per il welfare, l'abbiamo portato avanti sino ad oggi, quindi ti posso assicurare che la provincia ha risposto bene, i sindaci anche e quindi non ci siamo mai tirati indietro né alle nostre responsabilità e nemmeno a quello che dovevamo mettere in atto per porre un qualcosa, un freno a quello che era poi il sentore anche delle persone che erano un po' spaesate, quindi non si sentivano informate a sufficienza, come ha detto anche il dottor Casano. Possiamo dire che la provincia di Monzebrianza, noi abbiamo credo quasi la certezza che questo sia un primo grande esempio virtuoso di un semaforo verde. Certamente, i semafori rossi non ne conosciamo, conosciamo solamente quelli verdi, conosciamo solamente il fare e quindi noi ci parliamo sempre nell'ottica di trovare una soluzione a tutto e di mai tirarsi indietro le problematiche che ci possono presentare quotidianamente. Bene, ti ringrazio, abbiamo parlato ovviamente di dati che un poco ci preoccupano e questo in prospettiva è uno dei pesi che sta sulla nostra zucca e a tal proposito io ho di fianco a me, Marcello Correra, amministratore unico di AFOL, AFOL è l'agenzia provinciale che si occupa di lavoro, formazione e orientamento. Quindi tu hai in mano il polso della situazione, che è un polso della situazione da prendere un po' con le pinze e forse anche un po' di più. Avvicinati pure al microfono, grazie. Dati certi sono quelle che diminuisce il numero delle imprese, dal gennaio di quest'anno a maggio abbiamo avuto un saldo negativo di 182 imprese che hanno chiuso, lavoratori, abbiamo 7100 lavoratori a cui non è stato rinnovato un contratto a tempo determinato, il saldo è assolutamente negativo e abbiamo diverse decine di migliaia di persone che sono oggi congelate in un limbo della cassa integrazione, della cassa integrazione guadagni, sono 11.000 le persone a Monzebrianza che sono a maggio beneficiari dell'ammortizzatore sociale. Per quanto riguarda il futuro molto dipenderà appunto dalla situazione economica, dalla situazione sanitaria innanzitutto e da ciò che le autorità a partire dal livello governativo, potrà mettere in campo nell'immediato futuro. Certo la chiave è che non si esce da soli da questa questione. Quindi una rete, va fatto un grande progetto di rete? Va fatto un grande progetto di rete, noi abbiamo nel passato attivato grandi progetti di rete di contrasto di situazione di crisi aziendale. Allora se pensiamo che sono 1800 circa le imprese nel territorio di Monzebrianza che rischiano di passare a classi di rete differenti, è necessario su questo mettere in piedi progetti di politica attiva del lavoro in grado di convertire, di dare ossigeno eccetera, perché non tutto sta diminuendo, c'è anche qualche cosa che cresce. Sono cresciute sicuramente le professioni sanitarie, ma sono cresciute anche tutte quelle professioni legate al lavoro a distanza, sono legate all'informatica, sono legate alle reti e su questo bisogna lavorare. Una volta si diceva, è una domanda che in un servizio nostro poi riapparirà, si diceva autunno caldo, ma questo sarà un autunno probabilmente caldissimo. Bollento diciamo, da scottarsi le dita però non… Però l'abrianza, possiamo dire che l'abrianza c'è, diamo un messaggio sempre di fiducia. L'abrianza ce la farà. Bene, questo è il messaggio che ci piace e che ci piace portare avanti. Grazie a Marcello Correra di Afol e a questo punto io finalmente ho di fianco una signora, meno male, che è Erminia Zoppe, direttrice delle risorse e dei servizi ai comuni, i comuni 55 della provincia di Morsebrianza. Io sono stato tra quelli che ha creduto fin dall'inizio, credo di aver sprecato fiumi di inchiostro sul valore della provincia, che io vorrei risottolineare con te, ho detto che queste sono interviste informali, io non darò del lei a nessuno, l'organizzazione è parte importante di un territorio, l'organizzazione passa attraverso i comuni, passa attraverso i sindaci, passa attraverso l'istituzione però, perché se non c'è, se manca un coordinamento siamo leggermente fregati e in questa fase il coordinamento è stato fondamentale. Assolutamente fondamentale, vale la pena di ricordare che noi arriviamo, che la provincia arriva da un periodo molto difficile che è stato quello dell'attuazione della legge del Rio che ha tolto molte risorse sia finanziarie ma anche di personale umano, togliendo anche funzioni molto importanti alle province. La caratteristica di questa provincia, della provincia di Monza è stata quella di riconvertire la propria mission e come l'ha riconvertita? L'ha riconvertita divenendo casa dei comuni, ente al servizio dei comuni, noi forniamo servizi molto importanti ai comuni, basti ricordare la centrale unica di committenza, gestiamo gare d'appalto per 50 comuni, due aziende speciali, addirittura comuni fuori dalla provincia di Monza che ci hanno come il comune di Senago o il comune di Mediglia mi sembra. Siete anche espatriati praticamente. Siamo espatriati dai confini proprio perché ci viene riconosciuto questa capacità che lo dico con un po' di orgoglio non è di tutti. Forniamo il servizio di formazione ai comuni, gli stipendi ad alcuni comuni, piuttosto che partiremo con la centrale unica dei concorsi, faremo concorsi per i comuni che riterranno di aderire a questa nostra proposta o l'ufficio procedimenti disciplinari dove già una decina di comuni aderiscono. Come dicevo si tratta di un cambio di visione del nostro modo di essere. Da ente sovraordinato, chiamiamolo così come ci vedevano i comuni, a ente di collaborazione e questo ci ha permesso di essere apprezzati e di essere considerati per quello che realmente siamo. È stato detto prima dal Presidente ma anche dal Vice Presidente che questa è proprio la caratteristica di questo ente. Voglio sottolineare anche un'altra cosa importante perché, ripeto, io ci ho sempre creduto fin dall'inizio, parliamo di battaglie iniziate una trentina di anni fa, questo a testimoniare che sono anche un po' anzianotto. La provincia serve, serve per le ragioni che abbiamo detto, serve perché in questa situazione di emergenza ha saputo essere un punto di riferimento, questo è importantissimo, per non far perdere la gente, per non far perdere anche i sindaci, quindi un ruolo di coordinamento importante. Però voi siete presenti su molti tavoli, siete attivi su molti tavoli, uno dei tavoli nei quali siete presenti è il tavolo del lavoro, mi pare. Noi non siamo presenti sul tavolo del lavoro, noi siamo i promotori del tavolo del lavoro, è diversa la questione. Il tavolo di concertazione delle politiche del lavoro e della formazione è nato nonostante la norma non lo preveda, proprio perché ci piace ascoltare le istanze del territorio e fare in modo che le attività e le azioni che mettiamo in campo siano il più possibili aderenti alle esigenze del territorio. Nel tavolo di concertazione partecipano le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, ma anche IMSS, INAIL, per esempio abbiamo gestito tutta la partita del reddito di cittadinanza in filiera e questo ha permesso risultati assolutamente significativi dal punto di vista di riuscita del processo. Bene, io ringrazio Erminia Zopè, direttrice delle risorse e dei servizi ai comuni. direi che i temi affrontati in questa giornata sono stati molti, li snoccioleremo via via nel corso dei prossimi giorni, interessanti momenti veramente, soprattutto in alcuni passaggi che poi andremo a sottolineare. Ma il tema del lavoro io lo voglio risottolineare perché le preoccupazioni della gente sono quelle di uno scenario che non è uno scenario particolarmente sereno rispetto a ciò che è accaduto in questi primi sei mesi dell'anno. Gian Paolo Torchio è qui al mio fianco, referente delle politiche del lavoro e del collocamento mirato e qui mi sottolineano un passaggio che si chiama lift, che non è l'ascensore, ma è lavoro, integrazione, formazione e territorio. Tanta roba! Quindi la provincia è parte attiva di un processo che è un processo assolutamente importante di coordinamento anche delle politiche del lavoro. Sì, in questo caso sono specificatamente le politiche del lavoro delle persone con disabilità. Assolutamente, da sottolineare questo. Sono state un punto di allenamento e di formazione che sono un campo di prova quotidiano importante perché sono un punto di caduta delle politiche sanitarie, delle politiche del sociale e delle politiche del lavoro. E quanto si debbano tenere insieme queste politiche in questo momento è assolutamente chiaro quando abbiamo dovuto affrontare una crisi sanitaria che ha effetti importantissimi dal punto di vista poi sociali e del lavoro. Abbiamo sentito prima i dati presentati dal presidente di AFOL, Monza Brianza, quanto possano essere importanti in questo momento tenere insieme le politiche attive per riportare le persone al lavoro con una politica più ampia di supporto sociale. Devo dire che con il piano lift e più in generale con il lavoro della provincia noi siamo abituati a lavorare molto con tutti i soggetti del privato sociale, del privato anche puro che collaborano per l'elaborazione e poi l'esecuzione delle politiche che mettiamo in campo. Senti, la giornata di oggi è stata una giornata particolarmente intensa, siamo andati oltre la misura del tempo ma questo accade sempre nei convegni e soprattutto quando sono di interesse e soprattutto, permettetemi di dirlo, me ne assumo io la responsabilità, unici in questo senso perché in giro non c'è stato nulla di questo livello, tavoli così alti e così di insieme non ce ne sono stati e noi siamo qui a parlarne. Come la vedi la prospettiva proprio in funzione delle politiche del lavoro per quello che tratti tu, ma se tu dovessi guardare oltre la benedetta siepe cosa vedi? Speriamo di vedere una situazione in cui si torna ad una normalità di lavoro che non è mai in nessun caso visto che si lavora sulle situazioni comunque di crisi e di difficoltà una situazione semplice, una situazione in cui basta fare il proprio, bisogna sempre cercare di andare oltre e costruire rete intorno proprio per mettere insieme le competenze dei vari soggetti che possono intervenire, i comuni, gli ambiti, quindi i piani di zona che lavorano sul sociale, la provincia ma poi appunto tutto l'ambito della cooperazione sociale, del terzo settore, del volontariato che può costruire una soluzione. Cambiano le dimensioni, noi rischiamo di avere un autunno in cui le dimensioni diventano particolarmente importanti e in cui la dimensione della risposta deve diventare altrettanto importante. Speriamo in un autunno meno caldo di previsione, ti ringrazio. Allora io vado verso la chiusura, intanto ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci, sono anche tanti vedo oltretutto. Bene, abbiamo detto di questo ruolo della provincia che a un certo punto è passata quasi in secondo piano, non serviva più, bisognava buttarla via ma costa, sono tanti soldi sprecati e via discorrendo. Io ho qui Sandro De Martino che è il segretario generale della provincia di Monza e Brianza. Quindi lui rappresenta il cuore burocratico della provincia. L'altro dei temi scottanti è proprio quello della burocrazia. Il tema della semplificazione oggi è venuto fuori in tutte le salse, tutti quanti hanno citato la semplificazione, tutti quanti hanno sottolineato quello che dovrebbe essere e che non è. In questo caso noi vogliamo invece sottolineare il ruolo della pubblica amministrazione, in questo caso della provincia, in un processo di crescita e di ripartenza. Sì, esattamente perché il vero nodo che molto spesso si fraintende è che la pubblica amministrazione diventa burocrazia in un senso negativo, molto spesso perché ci sono leggi non sempre semplici e io oserei dire quasi basiche, soprattutto per noi maschietti dovrebbe essere così. L'amministrazione provinciale, prima fra le pubbliche amministrazioni, prima fra gli enti locali che sono quelli più vicini ai cittadini hanno dimostrato che col buon senso di chi opera si può andare oltre queste difficoltà oggettive che vengono spesso poste dalle leggi. Ciò non toglie che leggi semplici, come ho detto, addirittura basiche potrebbero aiutarci nel nostro compito, però mi piace sottolineare questo aspetto, che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni c'è stata questa prima, per così dire, attività di rilancio, il famoso semaforo verde, in un'ottica di assoluta semplificazione. Noi, e lo facciamo e lo possiamo solo fare perché per essere una vera casa dei comuni e al servizio, quindi dei comuni e dei cittadini che fruiscono di questi servizi, noi dobbiamo essere semplici, immediati e tempestivi, rispettando le regole. Questo lo riusciamo a fare e noi siamo stati, anche qui una piccola punta d'orgoglio, come anche altri hanno detto, i primi a partire in questo percorso di cui siamo ovviamente contenti. Senti, nel tuo ruolo, ovviamente, e in questo momento finale di questa piacevole chiacchierata abbastanza informale, ti chiedo, dopo aver ascoltato tutto quello che è stata la scaletta di questo intervento, se tu dovessi tirare una somma, che cosa ti rimane della giornata odierna? Rimane l'idea dell'entusiasmo, un'idea dell'entusiasmo che finalmente riusciamo a far passare dalla pubblica amministrazione a tutti i soggetti interessati e che colloquiano con le pubbliche amministrazioni. Quell'entusiasmo che abbiamo visto in alcuni punti, ovviamente venato dalla giusta e oggettiva e legittima preoccupazione per le prospettive future, però deve essere la base per ripartire e rilanciare. Abusiamo di queste parole, però il senso è quello. Ci siamo fermati di fronte a questo semaforo che, come tutti i semafori, sono rossi per un sacco di tempo. Adesso ripartiamo col semaforo verde, ma con il dovuto entusiasmo. Non con la fretta di arrivare presto a un appuntamento, ma con l'entusiasmo e con la voglia di arrivare. Bene, bene, grazie, grazie, grazie. E con questa botta di entusiasmo, possiamo definirla così, io vado veramente a chiudere. Io credo che oggi sia partito un segnale. Non so quanto importante sia questo segnale all'alba delle sette di sera passate. So solo che c'è stato un impegno, so solo che c'è stato entusiasmo, so solo che tanti attori si sono alternati qui nella sala conferenze della provincia. Tanti attori ritroveremo nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, perché la Brianza non molla. La Brianza non ha mai mollato, ha dato sempre dimostrazione di esserci, soprattutto nei momenti peggiori. Io credo che il passaggio importante sia proprio quello ultimo che abbiamo voluto sottolineare, che ha voluto sottolineare il segretario. L'entusiasmo. Ci abbiamo messo entusiasmo. Questa è stata una giornata nella quale tutti hanno portato il loro entusiasmo, la loro voglia di dire qualcosa, ma soprattutto la loro voglia di esserci. Io credo, e a questo punto faccio un'improvvisata, richiamo il Presidente, così la faccio con lui il finale, va. Un'improvvisata, non era stato concordato, ma il carletto è così, cosa ci volete fare? Così chiudiamo bene. È vero, Presidente, che chiudiamo con un brividino un po' sulla pelle. Alla fine c'è rimasto qualcosa di questa giornata in bellezza, in cuore, perché poi alla fine quello che conta molto è il cuore di questa benedetta Brianza. Non solo la stanchezza, perché oggi è stata una maratona preceduta da molti allenamenti duri, però è rimasto nel cuore un appuntamento unico, perché veramente è un appuntamento unico. Non è mai stato fatto una roba simile in Brianza e penso sia anche un modello poco frequente anche in Italia. Esportiamo anche questo, ma esportiamo anche questo. Facciamo un modello Brianza che possa essere esportato come buon esempio in tutto il nostro Paese. Abbiamo posto oggi le basi per questo. Guarda, io vedo tanti sorrisi, tanti sorrisi degli ultimi che sono rimasti qui con noi, vedo tanta gente che ci sta ascoltando e li ringrazio. Noi ci prendiamo un impegno, ci prendiamo un impegno di esserci, di seguire questo momento che è un momento estremamente delicato, è un momento difficile, che non va sottovalutato. È un momento, come ho detto prima, da prendere con le pinze. Noi le pinze ce le abbiamo, poi lui è come uno che corre un maratoneta, io no, insomma sono un maratoneta della forchetta, lui no. Quindi in ogni caso noi ci siamo, la Brianza c'è e il messaggio rimane Brianza Restart. E tra un po' toglieremo il Restart e metteremo Brianza c'è, sempre. Grazie, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di rimanere con noi per 27 minuti ormai, in tanti. Tra l'altro ci rivedremo presto, avremo altre uscite con interviste che sono state registrate durante questa ricchissima giornata che ci ha lasciato il bello, come sempre, perché a me piace sottolineare sempre il bello, il buono e il cuore e i sentimenti. Oggi ne abbiamo visti, ne abbiamo visti tanti, tanti che si sono alternati sempre con tanti valori e tanti buoni sentimenti, i valori della nostra Brianza. Grazie a tutti, buona serata, state bene.